Cari figlioli La Sesta Armata sono vulnerabili e il 19 novembre i rossi tornano all'attacco con oltre un milione di uomini. L'Armata Rossa forma una specie di cappio che si stringe attorno alla città. La Sesta Armata tedesca è in trappola. La conquista di Stalingrado si è rivelata un sogno di breve durata. Siano benedetti coloro che guadagnano terreno con la ritirata perché vuol dire che ben presto rivedranno la loro patria. Noi che eravamo i più giovani sapevamo come sarebbe andata a finire. 22 novembre 1942. Hitler viene informato che i russi hanno circondato la Sesta Armata. Il giorno stesso il Führer prende la sua decisione. Quando fummo informati che Stalingrado era circondata, Hitler ordinò immediatamente che la città dovesse essere tenuta a tutti i costi. Hitler decreta così la condanna a morte per la Sesta Armata. Gli invasori tedeschi verranno sacrificati nella sacca di Stalingrado. Non sopondiamo solo appunto il darle accesso a tutti i costi. Grazie a tutti.